Sono 8 milioni di euro, di cui 4 per il 2020 e 4 per il 2021, stanziati dalla Giunta regionale in favore dei comuni per la definizione del reticolo idrografico, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del piano per l'assetto idrogeologico. Il reticolo idrografico, una volta validato dall'autorità di distretto, sottolinea la Regione, rappresenterà il riferimento per gli studi di approfondimento dell'assetto idrogeologico e per gli eventuali interventi in area a rischio idraulico o da frana e contribuirà in maniera significativa a incrementare lo stato di previsione, quindi a ridurre i danni che possono derivare da un evento alluvionale. Con questa ulteriore misura di sostegno ai comuni puntiamo sulla sicurezza per ridurre il rischio e aumentare la resilienza dei territori in area ad alta pericolosità, ha rilevato il Presidente della Regione, Cristian Solinas. La storia della Sardegna, anche e soprattutto quella recente, ci insegna che davanti a fenomeni dolorosi, quali alluvioni e frane, insieme alla messa in sicurezza, è fondamentale mettere in campo tutti gli strumenti di studio e analisi utili a pianificare e prevenire. La Regione è impegnata concretamente in un'importante azione di tutela dei territori con l'obiettivo primario di salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni a beni e attività economiche e al patrimonio architettonico e culturale delle comunità minacciate da fenomeni di disdissesto o idrogeologico. La programmazione, spiega la nota della Regione, nasce dall'esigenza di disporre di un reticolo idrografico di riferimento preciso e il più fedele alla realtà e allo stato dei luoghi, al fine di risolvere e superare situazioni non più attuali, specie in riferimento a corsi d'acqua o tratti di corsi d'acqua, che possono aver subito modifiche in seguito a eventi naturali o interventi di deviazione o derivazione. Si tratta in questo caso, conclude la nota, di incoerenze che, se non opportunamente valutate e corrette, possano portare a errori nella definizione delle aree.